Poi va acquistando i soldi e poi ti perdono, perchè qua il delitto è così. Però lei lo fa per fare favore, non è che lo fa per interessi o cose. C'è l'interesse che c'è, quello a me mi dà la roba, non è un proprio niente per niente. L'esame non li sta riprendendo. Non li ho riprendi. Non li ho riprendi. Non li ho riprendi. Non li ho riprendi. Grazie.